buongiorno a tutti visto che mi dicono che non saluto dico buongiorno a tutti partiamo così oggi parleremo di europa league parleremo delle nostre italiane che sono tutte promosse quindi molto molto bene e quindi bando alle ciance ciancio alle bande partiamo subito con il milan milan che si è qualificato comodamente come avevo immaginato anche ieri una bella golea da 5 a 1 ai poverini dell'austria vienna che in due partite hanno preso 10 gol qualificato tranquillamente con 11 punti senza infamie senza lode ma quello che conta il risultato quindi molto bene per i cuginetti che belli tranquilli sono già i sedicesimi con una partita di anticipo passiamo alla lazio che anche lei ieri ha pareggiato ma ieri giustamente simone inzaghi ha inserito tanti bravi giovani che si sono distinti bene pareggio con il vites che non cambia nulla sono già primi quattro vittorie un pareggio quindi complimenti anche alla lazio perché veramente non c'è nulla da dire anche loro ai sedicesimi con una giornata di anticipo si sapeva ma non si sa mai noi l'anno scorso abbiamo fatto delle figure barbine che ho resettato quindi non ne voglio parlare ma veniamo veramente alla libidine anzi alla doppia libidine l'atalanta perché signori l'atalanta quando io ho visto il sorteggio anzi facciamolo il sorteggio partiamo con un sorteggio come se le squadre uscissero per lettera alfabetica quindi partiamo dalla e arriviamo alle altre quindi sorteggio del girone esce l'apollon limassol seconda squadra l'atalanta quindi tifosi atalantini ma anche in generale tutti perché tutti guardano le ecco buonanotte i sorteggi tutti guardano i sorteggi quindi naturalmente dicono vabbè l'apollon limassol squadretta di cipro molto bene siamo tranquilli almeno una l'abbiamo seconda squadra esce l'everton vabbè una squadra forte nel girone ci deve essere quindi arriveremo secondi parlo da tifoso atalantino in generale ma parlo da tifoso anche italiano arriveranno secondi poi esce l'ione e a quel punto non voglio pensare cosa hanno detto i bergamaschi perché vabbè sorvogliamo però ti viene la frase da calimero che ingiustizia però sono anni che aspettiamo di tornare in europa e ci capita l'ione l'everton a parte gli scherzi pronti via inizia l'europa league prima partita atalanta everton quindi ma mi ci metto anch'io tranquillamente prima della partita dicevo l'atalanta già se fa un pareggio è buono e questi cosa fanno 3 a 0 inglesi a casa e quindi già lì si mettono già bene le cose perché comunque una possibile concorrente l'hai battuta 3 a 0 e quindi sono tre punti loro in caso di pareggio devono batterti minimo 4 a 0 e diventa difficile quindi già lì ottima partenza poi vanno a lione e anche lì uno dice partita con il lione è dura già perdere di misura 2 a 1 andrebbe bene loro cosa fanno pareggiano e anche bene perché dopo un primo tempo un po così così nel seconda non strameritato di pareggiare poi vabbè sono stati anche un po fortunati ma la fortuna aiuta gli audaci partita con l'apollon limassol in casa e lì viene il problema che di solito capita ai tennisti cioè la prova del 9 quando un tennista magari non non ancora bravissimo eccetera ti batte una testa di serie e poi nel turno successivo ha un qualificato comunque un giocatore alla sua portata e perde nettamente e quindi la paura era quella e c'è l'atalanta bella tranquilla 3 a 1 anche all'apollon limassol 7 punti in tre partite e quindi già è messa bene vanno a cipro pareggiano all'ultimo minuto proprio stava vincendo tranquillamente all'ultima azione dell'ultimo secondo proprio roba da sfortuna nera 1 a 1 però praticamente ti trovi con 8 punti 5 punti in più dell'apollon limassol che teoricamente potrebbe raggiungerti però deve vincerle tutte tu devi perderle tutte e due quelle successive calcolando anche che doveva andare a giocare a lione quindi praticamente qualificazione in tasca vai a liverpool a giocare con l'everton sappiamo benissimo che la squadra inglesi a calcio giocano sempre cioè ci mettono l'anima anche se ormai sono sono fuori la partita non conta nulla eccetera loro giocano perché per il piacere di giocare per il piacere di vincere e cosa fanno 5 a 1 io sono andato così a curiosare le grandi vittorie delle squadre italiane in inghilterra nessuna da quello che ho visto ha vinto 5 a 1 c'ho una vittoria dell'inter con newcastle 4 a 1 varie vittorie di juventus e milan ma sempre di misura una vittoria ancora dell'inter con l'arsenar 3 a 0 la vittoria dell'udinese con il liverpool 3 a 2 però tutte vittorie così quella più che si avvicinava di più era appunto quella dell'inter con newcastle ma era un 1 a 4 loro hanno fatto ancora medio 1 a 5 quindi che dire complimenti all'atalanta complimenti ad asperini e niente domani vi devo anticipare un attimino il video perché abbiamo la serie alle 15 subito con la prima partita e quindi domani parleremo di serie a sparerò le mie previsioni che saranno tutte sbagliate ma fa niente e un'ultima cosa oggi dovrebbe uscire il mio quarto capitolo di amar corner azzurro su winter live se qualcuno vuole andare a leggere ce ne sono già tre precedenti che riguardano virgilio fossati riguardano giuseppe e meazza e riguardano sandro mazzola ho fatto dei ricordi diciamo di questi campioni e oggi dovrebbe uscire anche giorgio ghezzi nel tardo pomeriggio quindi se qualcuno ha piacere di andare a leggerlo fa mi fa un favore se no non è assolutamente un problema intanto vi ringrazio che venite a vedere i miei video ciao a tutti e buona giornata